Ciao a tutti e bentornati al FritzTube Oggi, dopo lo sbustamento di ieri che abbiamo fatto con le carte reali Andremo a fare lo sbustamento in esclusiva di Battle for Zendikar Anche su Magic Online Siamo riusciti a trovare le bustine Ma ufficialmente usciranno il 12 Noi comunque le abbiamo subito E partiamo subito Allo sbustamento Allo sbustamento Siamo a parà Vai 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 Guardiamo un po' Siamo fortunati di trovarsi un chioro anche qui Eh si 15 grand Una rara e mitra rara 10 comuni 10 comuni 10 comuni Una rara ometica E vi ricordiamo le Zendikar Expedition 1 in ogni 50 Sbustamento Online Perché in realtà funzionano così Mi sembra Quindi speriamo un po' Vediamo un po' Apri una Si apri Apri E che ora Dai Oh Subito un po' Rara 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 Bella questa Bella bella così E from by a bay Beyond Bella Rara Che Eh si Bam Diciamo Azzumiamo All'interno La convergenza Cerca il tuo mazzo Per una creatura N'istant'ana Stigioneria Un costo Convertito Fa Meno Uguale Al numero Colori spesi Per giocare Questa Esila Quelle carte Puoi giocare Con le carte Senza Fugare Il costo Stigioneria Ok E' una bestia E' potentissima Questa From beyond Devo Vedrano a colore L'inizio del tuo turno Metti un 1-1 Il drazi In campo A serifio A storiatura Aggiungi Uno Al tuo Man La pedina Serifio Cerca Il drazi Rivela Poi andiamo a vedere La terra La terra 5 Alli Almeno Poi Nasce Via Nulla 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 Una parte mia preferita E' la pianurina E' la pianura Va bene Bella La prima E' andata benissimo La prima è veramente Da 10 Andiamo con l'altra Open Vai Vai Subito Ora Cos'è Veteran World Leader Questa è un pochino Non è male La potenza La difesa Sono uguale al numero Di creatura E controlli Tappo un adaleato Guarda più strike Vigilanza Rolgere Fino a fine Il turno Scegli uno Bello Questa Non male Questa Broad Monitor Quando entra in campo Metti 3 Il drazi Buona Buona Scorriamo Quello che è Altri Madagher Famiglia Sì Ivan Scorri Lecce Brasci Di ferro Brasci Di ferro Di roccia Il fruttistino Di nuovo Altri globo Goblin Bene 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 Va Vai Il drazi Montagna Va bene Vai Siamo subito Con l'altra Vai 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 Senti Lo spediccio Spediccio Una bestia Uh Bella Questa Distruggire la natura Un placework Costa 3 Che se fai La Waken Cioè pagando 7 Paghi 7 E metti anche 4 segnalini Alla fertura Alla terra Questo Berlino adesso Se non da terra entra in campo Può pagare 3 E mettere elementale Non è male Altre Landfall Rally Sì E' quello di spade La maestro di spade Ah Maestro di spade Un saluto Va bene Va bene Ci interessano ben po' Qui vogliamo le cartelle Forest E' una luna a meno Diamo subito La quarta e ultima bustina Expedition Vai La subito Expedition Vai Expedition Bam La finisce Ah Come fai Eh sì sì Questa è minima Non è male Volare rapidità Attacco ogni turno Un 3-3 Costa 4 Non dentro una terra La puoi pagare 6 E ritorna in campo Buona Mi se ti muore Dove è buona Quando fa In battaglia Lui è un alleato Gli attori controlli Guardano Menace Fino alla fine Di turno Bene Bene Le altre Anticipate Nel terrazzi Via Scorrendo Interessa ben poco Forezza Ok Ci mancava la falude Questi sono le mie 4 bustine Che abbiamo trovato Adesso ci mettevamo Per trovarle le altre Esatto E faremo un sbustamento Esatto Esatto Poi metteremo in mente Tutte queste carte Quindi se avete bisogno Contattateci Iscrivetevi E scompratevi Magic Online Che almeno Facciamo anche i match E niente Al prossimo Sbustamento Match Torneo Al prossimo video Ciao a tutti 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 Ciao a tutti